Tutto la mia vita ho cresciuto pensando che l'asbestos sia sicuro. Abbiamo perduto il mio padre, la mia madre e due miei figli. Anche se si potesse lavorare in sicurezza l'amianto, io non ci credo. Perché c'è sempre qualcosa, il filtro che si rompe, l'incidente. L'amianto è cancerogeno, ma perché dobbiamo lavorarlo ancora? Rai for justice! Rai for justice! Rai for justice! Credo che sia terribile che le stagioni che ci sono stati dicendo a noi, all'Europa, ma soprattutto in England, in l'Unione Unica, 50 anni fa, sono stati utilizzati in paesi come il Brasile. L'amore è stato preso! Tchè non ha vincere uso di asbestos, non ha vincere bisogno di asbestos, di che ha bisogno di essere rilassato. Cidamente ci sono stati accolato per quale, esattamente un po' LAATPRESSOR Grazie a tutti.